Buongiorno a tutti, anche oggi voglio fare una chiacchierata fotografica, mettiamola così, su un'idea che mi è venuto, un dubbio che mi è venuto e che voglio condividere con voi. Vi condivido con voi il dubbio, quindi diciamo più la domanda che la risposta. Sono spesso più interessanti le domande che le risposte, come in Guida Galattica per Autostoppisti, che se non avete letto vi consiglio di leggere, in cui la risposta è nota ma il vero problema è capire qual era la domanda, che è molto più complesso. Lo diceva anche Pablo Picasso relativamente ai computer, i primissimi direi, che diceva che erano assolutamente inutili perché davano solo risposte. Ed effettivamente è vero, il problema del computer è che può saper dare delle risposte in tempi brevi e in risposte molto precise, ma il vero, il vero problema è sapergli porre le giuste domande. E quindi adesso non mi voglio insomma eleggere a chissà quale filosofo, però ecco, condivido con voi la domanda e poi la risposta, non lo so se mi viene, magari adesso mentre chiacchiero del video. Il punto è che noi fotografi, professionisti, fotoamatori o i fotografi d'arte, chi lo fa più per mestiere magari, noi fotoreporter o che diciamo che siamo fotografi, rimaniamo tali fotografi anche quando non abbiamo una macchina fotografica in mano. In fondo ci sgoliamo, no? Qui chiunque fa un minimo di divulgazione fotografico che parla di fotografia, si sgola per dire che il mezzo fotografico non è importante, che influisce pochissimo sul risultato finale, influisce poco sul contenuto, direi quasi zero nel contenuto, diciamo nel significato della foto e anche poi in fondo nella forma anche non influisce poi così tanto, no? Influisce molto di più quello che è la scelta del fotografo che usa lo strumento. E così direi che potremmo applicare questa regola un po' a chiunque usi degli strumenti per lavorare. Il musicista è un musicista anche senza lo strumento, no? Cioè il pianista, se gli metti più o meno un pianoforte piuttosto che un altro, in fondo suona lo stesso. Come un pittore, non credo che cambiando pennello a Picasso, tanto per dirne una, cambierebbe tanto il risultato, o addirittura un chirurgo. Lo è, insomma, anche se gli cambiate gli strumenti, insomma, non ha bisogno dei suoi strumenti personali, ecco, per operare bene. Quindi cosa succede? Che tutte queste persone rimangono tali, rimangono appunto chirurghi, rimangono falegnami, pittori o fotografi, anche senza i loro strumenti che si sono scelti, ma magari anche con altri strumenti. Allo stesso tempo, però, quegli strumenti sono indispensabili per esercitare il loro essere fotografi, falegnami, chirurghi e compagnia. Perché senza quegli strumenti non potrebbero, non avrebbero potuto nominarsi tali, o non avrebbero potuto, diciamo, essere nominati tali. Insomma, diciamo, non credo che un chirurgo, appunto, riesca poi a essere abilitato senza aver operato almeno una volta, no? Ovviamente stiamo esagerando, non voglio paragonare il chirurgo al fotografo in quanto ha nobiltà del lavoro, assolutamente, però quello che voglio dire è che sono tutte attività che hanno bisogno di strumenti. Lo strumento ha una piccola importanza, ma è necessario. Ecco, necessario. Per quanto la macchina fotografica possa essere poco importante nel risultato finale, c'è un'unica cosa che la macchina fotografica deve assolutamente fare, ed è esserci, funzionare. Ecco, ci deve essere e deve funzionare. Il mio dubbio qual è? Sono stato recentemente in un negozio di fotografia storico qui di Roma, peraltro, andateci, si chiama Centro Fotografico Romani, in realtà sta cambiando nome perché purtroppo, insomma, la persona che lo gestiva prima, una delle persone che lo gestiva prima, non c'è più. Adesso si chiama Romana Foto, comunque è in zona, qui, insomma, Montagnola, se lo cercate lo trovate, anzi vi lascio il link in descrizione. È un negozio storico, loro sono gentilissimi, hanno tantissime cose anche usate, soprattutto analogiche, quindi ero lì da loro, e la cosa bella è anche magari farsi due chiacchiere, no, in posti come questo. Ecco, appunto, uno dei due proprietari non c'è più e non era proprio giovanissimo. L'altro, non so se proprietario, insomma, l'altra persona che c'è sempre stata e che adesso gestisce da solo il negozio, anche, insomma, non è proprio di primo pelo. E effettivamente capisco che, insomma, a un certo punto si stancherà, probabilmente, forse è già anche in età pensionabile, se continua a fare questo lavoro è perché ha una passione per la fotografia, perché vuole mantenere questa attività, non per il senso di impresa, non credo che economicamente questa attività gli cambi la vita, ma effettivamente lo fa perché gli piace. Il punto è che, secondo me, nella fotografia, essendo questi strumenti così necessari, non credo che si possa più di tanto continuare a far leva sulla passione per la fotografia. A parte il fatto che ci sono tanti professionisti che guadagnano di fotografia e se non hanno un vero guadagno, non smettono di farlo. Allora il mio dubbio era, ma se, come sta piano piano succedendo, iniziano a sparire le macchine fotografiche? Se dovessero sparire del tutto le macchine fotografiche e magari rimanere solo strumenti che magari fanno anche foto, ma tutti i fotografi professionisti o amatori che siano non li usano, non penso che potrebbero usare solamente quegli strumenti, parliamo degli smartphone ovviamente. Cosa succede alla fotografia? Alla fotografia in quanto disciplina, a arte o insomma tutto questo? Cosa potrebbe succedere? Ovviamente è un caso limite, probabilmente le macchine fotografiche continueranno ad esserci finché ci sarà bisogno di scattare delle fotografie. Però potrebbero anche sparire e, non so, i fotoreporter usare dei telefoni cellulari o strumenti simili che però non sono delle vere e proprie macchine fotografiche. Sarebbe un po' un paradosso l'esistenza della fotografia senza macchine fotografiche. Un po' come se si smettesse, non so, di produrre fornelli o piastre a induzione o padelle perché tanto ci sono robot da cucina che cucinano e quindi si lasciasse, va bene, diciamo che gli chef si arrangiano con quello, in fondo si cucina anche con quelli. E se sei bravo cucini bene anche con quelli. D'altronde le macchine del gas, insomma le cucine, non le vuole più nessuno, non le compra più nessuno perché tanto ormai tutti usano robot da cucina e quindi perché continuare a produrli? Oppure li produci solamente per, diciamo, chi ne ha bisogno a livello professionale ma ovviamente hai dei prezzi esagerati e quindi chi cucina per passione, mettiamola così, chi si cucina anche per mangiare, però è ovvio che, insomma, per esempio a me piace molto cucinare, insomma, non rinuncerei ai fornelli in casa, no? O piastre a induzione, però per dire degli oggetti su cui poter appoggiare pentole e padelle. È difficile, insomma, trarre una conclusione da questo pensiero che ho fatto, da questo dubbio che mi è venuto. Però quello che posso dire è che dobbiamo cercare anche, forse noi, di dedicarci un po' di più anche a questa fotografia, la fotografia in presenza. Io sono il primo che compra online, sono il primo che fa tutto, online, forum, acquisti, bei, negozi, amazon e compagnia. Però effettivamente in questo modo si sta un po' perdendo quella che è la specificità dei negozi di fotografia che vendono fotografia, ma non solo dei negozi, parliamo anche dei produttori, perché se nessuno più produce macchine fotografiche anche per foto amatori comincia a diventare un problema e il rischio c'è, perché vediamo che, insomma, case che non hanno mai avuto di questi problemi cominciano ad avere difficoltà. La Nikon ha avuto grosse difficoltà, ad esempio negli anni passati, magari per scelte sbagliate, è vero. Però adesso sta rinascendo e sta un po' recuperando, ma sta recuperando sul settore molto professionale. Insomma, le macchine che attualmente ci sono della serie Z, tranne la Z, per carità, la Z50 esiste, però non ci fanno molto affidamento su macchine consumer, si punta sul lato professionale. E questo, secondo me, può essere un po' un problema. È come se, appunto, anche acquistando, noi dovessimo per forza andare ad acquistare da negozi che vendono solamente a professionisti, non è la stessa cosa. Io quando entro lì, appunto, in questo negozio, ma come tanti altri, ho un rapporto con chi gestisce il locale, con il venditore, che è chiaramente basato sulla passione della fotografia ed è diverso anche vendere a un fotoamatore piuttosto che vendere a un professionista. Credo che dovremmo fare qualcosa, un po' tutti, a cercare di recuperare un po' questo tipo di vita della fotografia che si consumava e si consuma sempre meno nei negozi di fotografia o comunque in luoghi fisici dove ci può essere uno scambio e dove, poi diciamoci la verità, ci deve essere anche un guadagno per le persone che si dedicano a questa cosa. Per questo parlo di negozi, perché per quanto noi possiamo riunirci in fotoclub e cose del genere se non si crea un giro economico, poi alla fine la fotografia stessa, i mezzi e gli strumenti di cui abbiamo bisogno nessuno li produce più se non c'è dietro un interesse economico. Quindi forse è il caso che cerchiamo, che si trovi anche un modo per recuperare questa cosa cioè per far girare effettivamente anche un modo economico intorno alla fotografia e magari non stare lì a elemosinare, ecco, non so, i 10 euro su un acquisto, magari anche forse di 100 euro e andando a comprare l'oggetto, non so, su siti web che fondamentalmente non sono interessati alla fotografia, vendono quello che si trovano sotto. Ma non parlo solo di Amazon, parlo di 3.000 altri negozi che vendono questa roba senza ovviamente nessun tipo di supporto al cliente. È vero anche che quando si va al negozio non c'è sempre tutto da provare appunto io ripeto, sono il primo a usufruire di questo tipo di servizi online perché c'è molta più scelta e tutto quanto. Però ecco, magari non so, lo sviluppo e stampa per chi ancora fa l'analogico invece di spedirlo chissà dove, cercare un posto dove poter andare e magari farsi due chiacchiere e magari comprare lì il rullino e pagarlo un euro in più rispetto a un altro insomma, sono cifre che magari non cambiano tanto ma si mantiene un po' questo mondo della fotografia un po' più sul reale, sul territorio qualcuno direbbe in modo da tenere vivo un po' ancora questo mondo nella speranza che questo mondo della fotografia riprenda un po' è ovvio che questa mega esplosione di immagini fast, di fast image come fast food e fast fashion che adesso va molto anche il fast photo è ovvio che insomma colpisce molto la cultura fotografica il fatto di poter scattare dal cellulare, il fatto di poter condividere le foto senza stamparle ma mettendole sui social rende tutto molto più complicato per quella che era la fotografia che ha sempre avuto degli amatori, dei veri, delle persone che veramente ci tenevano ma fondamentalmente economicamente si basava anche su tante persone che compravano macchine fotografiche non perché avessero chissà che passione per la fotografia ma lo facevano perché avevano bisogno di fare foto anche semplicemente di famiglia tutte quelle persone che non avevano un particolare interesse sono passate agli smartphone e non usano macchine fotografiche nemmeno le compatte, non ha più senso effettivamente comprare le compattine qualcuno ancora le compra ma sono casi particolari però quelle persone tenevano in qualche modo in piedi questo mondo anche dal punto di vista economico adesso come facciamo? come si fa? veramente c'è il rischio che questo mondo della fotografia sparisca da un punto di vista amatoriale e se volete anche artistico a questo punto e diventi solo un settore, un qualcosa dedicato ai meri professionisti che fanno fotografia solo per conto di qualcun altro che è molto diverso appunto insomma ditemi che ne pensate io ho un po' paura, un po' d'ansia ce l'ho ho già l'ansia di magari ecco non poter più usare un giorno le mie macchine analogiche ma avere addirittura l'ansia di non poter più avere una macchina fotografica di non poter più comprare una macchina fotografica o degli obiettivi se non acquistando roba stra-professionale insomma questa sarebbe troppo ditemi che ne pensate se vi è piaciuto il video mi raccomando un like se non siete iscritti iscrivetevi al canale grazie mille di avermi ascoltato come sempre buona fotografia e alla prossima ciao ciao